Ecco, è cominciato il video Dai video alla punvia di Prada Oh, ci dobbiamo mettere nel cerchio Dopo il cerchio si alza appena siamo lì Sta per arrivare Giovanni Oh, però per andare in due, come facciamo a salire? Uno deve stare su quel fiore e l'altro sull'altro Ragazzi, siamo stati su per anni, con quelli fi in mano Ah, dozzo Sono pronto Anzi, mettonelo qua Io mi metto Ma che distacco c'è tra una e l'altra? Un bel po' Dove ci mettiamo? Oh, io mi metto qua Lo farò per primo Due alla vostra Come faccio con lei, insieme? E poi si vede con la bambina Sì, sì, la mettiamo qui Sì, sì Non saltate, eh Non siamo finiti E la binata non era delle migliori Sì, no, no Di tutte le combinazioni non è solo le preferite Ottimo Se l'abbiamo fatta Attenzione, ci solleviamo Straordinario Vediamo Svoltiamoci Fantastico Sì Sì La quantità è incredibile E tra poco lo sarò ancora di più Oh, io non mi vido Ricordiamo l'esperienza quarantennale di questo impianto Che potrebbe tradirci Potrebbe spezzarsi a metà No, ma le cabine sono nuove Nuove Ciao, dozzo Ok, allora la metto qui Sfisciata Sfisciata Voltiamoci indietro Attenzione Ecco lì Travalla All'impazzata Pensa che ci sono ben 21 piloni E noi siamo quasi al 3 Wow Che numero siamo? Siamo quasi al 2 Che numero ha? Il numero? 30 Quello No, la La E lì è il 3 No, no La cabina Quella ha detto papà Ci vedi? Mi sembra il mio 30 Dov'è? Lì in basso Quello giallo Sulla base No, quello lì era il 37 Tipo quello lì Vedi? Quello lì è il 38 Allora è un po' si messi La nostra qual è? Eh non lo so Non posso vedere Manda la macchina fotografica Lo scopriremo lì Che lentezza Esasperante Guardate c'è ciotto Non so se c'è una canica Guardi lì Sì 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 Non ne vedo però Se l'ha inventata Questa qui una volta era una pista da sci Sì Ora è diventata una vita Eccone una Ah no, certo Va bene Che c'è? Ah forse era questo Cosa ha fatto? Ha messo il legno qua nel buco Che stupido Sì, sì Eh beh, oddio Non l'avrai mai Ma quanto lunga è? Ho detto che sono 21 Sì? Sì? Sai quanti piloni sono? Dozzo Dozzo A cinque Oh sì Questo è un rudere Qui più avanti Dovrebbe servire da protezione per gli sciatori Non so Ah un vecchio skillift ha distrutto Wow Che figo E quella lì è la protezione per non essere travolti Dallo skill Da Se qualcuno cade Straordinario Sì ma chi è che cade? Ruderi di un Ah ecco vedi Ci hanno già buttato qualcosa Dozzo ci hai buttato il coso? No Un ex skillift Lo rivediamo Non c'è la fine però Inglobata nella foresta Forse era questo No Mi sento di escluderlo Cerchiamo in mezzo ai rami No Non si vede Forse qui Si aprono piano 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 Il pilone è numero 6 In avvicinamento lento E esasperante ciò Oh attenzione L'hanno messa a nuovo quella parte Quale? Il pilone di ritenuta Eh no è perché il pilone di ritenuta E siccome deve sopportare uno sforzo maggiore perché la fune tende ad andare in su Allora il cemento armato è più sicuro Non si vede il lago di Garda Straordinario Si vede anche Garda Rande? No Guarda il lago papà Papà Guarda il lago Questo è il numero 7 Sì Proprio così si monta ecco Cioè pensati che una volta impianti di questa lentezza erano comuni in montagna Sarebbero le cabinovie di una volta Che freddo che avevano Eh già Immagini in piedi per 20 minuti Esatto Con gli simbano E al gelo Ecco qui La sua struttura in cemento armato Decadente Guardiamolo Perché Uno così Ah no ce n'è anche un altro sulla seggiavia Identico Guarda numero 8 Di già Oh sì Ravvicinati Vietato ad ondolarsi Sì Ok Vabbè il panorama non è male Wow Guarda il lago Che figo Riesco a vedere Garda Rande Forse 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 da sopra si vede Da quella là No Non credo È da questa parte È da questa parte È da questa parte del lago Ah sì Sì Peccato che non posso fare il zoom durante i video Mi auguro che basti la memoria Perché Beh dai 25 minuti Non so Io non ci scommetterei molto Eh cavolo E quanti erano 40 No è possibile Non sono passati 20 minuti Tu dici Secondo me sì 20 no No 15 Questo doveva essere un fuori pista D'altri tempi Non riesco a girare la manopola Ma cosa andrà sto Dai Efficiente Secondo me la devi tirare Prova a tirarla in fuori No no Fuori No no Sei pazzo E provo a girare dall'altra parte No no Meglio non morire Siamo ancora giù E dobbiamo soprattutto Dobbiamo vedere anche l'altra da monoposto Sì Non posso morire prima Di averla vista Non sei messato su una monoposto Di posto ma non monoposto Via Su una sola Questa sarà la mia seconda Qualcosa si muove nel polto Purtroppo La seggio via Un posto che avevo preso fino adesso Non la potrò più prendere È stata distrutta Davvero? Sì l'estate scorsa Wow Hanno messo una biposta Che schifo Lo ripeterò Fino alla morte Io sempre li do i migliori Sì O è meglio Beh adesso è meglio Dieci Arriviamo a cifra tonda Dieci su ventuno Siamo quasi a metà A metà di questa campata Saremo a metà Papà 21 diviso 2 Fa 10 virgola 5 Papà Ci sono 21 pilastri E siamo al 10 Dieci Dieci Che schifo Che schifo Questo passo 21 Non ci si toglie nessuno Cioè? Cioè scusa La perla L'esaurimento della memoria Cioè Senti Dozzo che fa casino Non ha rispetto Non ha rispetto Un terra di video E che è anche la qualità più bassa Quindi c'è più tempo Per registrare Se no Al limite Giminerò qualche foto stupida Della Nadia Cioè Ha fotografato La Barbie Lì con Big Jim E si baciavano No si chiama Ken Ah si Ken Ken Big Jim era un altro No attenzione Possiamo vedere il parcheggio Ecco Come puoi immaginare Quindi ho sbagliato Non sono esperto Per fortuna Ah